ciao a tutti benvenuti sul boom e benvenuti in questo nuovo video oggi un format un po diverso rispetto al solito un formato differente perché parleremo di libri quindi no grammatica ma bensì libri in particolare faremo una piccola lettura di un libro non italiano ma che parla all'interno delle sue pagine anche di italia per questo motivo ho deciso di scegliere di leggere questo estratto che ovviamente poi inserirò all'interno del video per rendervi più facile anche la lettura e l'ho scelto proprio perché si descrive un po quella che è l'idea la concezione degli italiani ovviamente da un punto di vista soggettivo che quello dell'autore ma che però è molto interessante io penso che abbia degli spunti di riflessione assolutamente belli o comunque validi da valutare il testo che leggeremo oggi è o meglio l'estratto è preso da massa e potere di Elias Canetti questo è un testo ovviamente è un saggio quindi non è un testo narrativo ma è un testo che tende ad analizzare delle problematiche sociali in particolare in questo caso si fa appunto un'analisi sul concetto di massa in relazione al potere sociale e politico all'interno di questo testo che non starò qui a descrivervi perché non è questa la finalità di questo video in realtà mi interessa estrapolare prendere proprio questa parte dedicata alla descrizione degli italiani faccio una piccola premessa prima di iniziare la lettura e il commento legata al fatto che Canetti non parla solo degli italiani ovviamente questo non è un libro dedicato alla società italiana nel suo specifico ma all'interno delle varie spiegazioni e analisi che Canetti offre riguardo al concetto di massa lui si sofferma in modo particolare analizzando le varie società prendendo come esempio e come spunto alcuni dei popoli più importanti o che secondo lui hanno avuto una formazione sociologicamente più interessante in cospetto al suo diciamo argomento di riferimento quindi c'è un paragrafo dedicato ai francesi agli inglesi ai tedeschi e poi anche agli italiani in tutto questo quindi io andrò direttamente ad analizzare quello relativo agli italiani allora inizio con la lettura del testo poi lo commenterò strada facendo l'autocoscienza di una nazione moderna il suo comportamento in una guerra sono in grande misura collegati alla riconoscibilità dei suoi simboli nazionali di massa la storia può giocare un brutto tiro ad alcuni popoli molto tempo dopo che essi si sono conquistati l'unità a questo proposito l'italia può essere un esempio di quanto sia difficile per una nazione concepire se stessa quando le sue città sono popolate da grandi ricordi e il suo presente è volutamente confuso con tali ricordi e questo è molto interessante perché lui fa notare come l'italia unificata fa in realtà riferimento viva in una sorta di limbo che non la fa essere né nel presente neanche nel passato passato glorioso che si manifesta in tutte le rappresentazioni anche estetiche che sono presenti in italia in contraposizione a questo presente informe perché impossibilitati italiani a viverlo nella loro diciamo così nella loro vita attuale fin quando l'italia non ebbe conquistato la sua unità negli uomini era tutto molto chiaro il corpo spezzettato sarebbe tornato ad essere riunito si sarebbe sentito e comportato come un solo organismo ma non appena la marmaglia nemica ne fosse stata scacciata quindi fa notare come l'un concetto stesso di unità si forma in realtà semplicemente nella versione verso lo straniero cioè l'italia sente avverte il senso di unità nazionale solamente nel tentativo di scacciare lo straniero in patria quindi in questo elemento trova un sentimento di unità diciamo così simbolica a cui appigliarsi per scacciare lo straniero in tali casi di profondo senso di appressione quando il nemico permane molto a lungo nel territorio tutti i popoli si creano immagini similari della loro condizione nemico appare come il numeroso il deforme l'odioso come uno stormo di cavallette che si alimenti della terra buona e generosa dei nativi quindi gli italiani identificano nello straniero il nemico da combattere e l'origine di tutti i mali e questo genera quella che potremmo chiamare oggi la determinazione di un nemico comune che genera appunto un senso di profonda unità il nemico appare come il numeroso il deforme l'odioso abbiamo già detto e quando esso a serie intenzione di rimanere mostra la tendenza a dividere quella terra e affiaccare i nativi indebolendo in mille modi la loro reciproca unione la reazione allora l'unione segreta e in una serie di momenti felici la espulsione dei parassiti ciò infine accadde e l'italia trovò la sua unità rivista a lungo in vano da molti e spesso dei migliori dei suoi spiriti quindi questo sentimento di oppressione questo tentativo degli oppressori di dividere o di impedire di opprimere le sensibilità italiche ha generato esattamente l'effetto opposto attraverso la nascita di organizzazioni segrete no quindi una ribellione interna ma proprio in quel momento si rivelò che non era possibile lasciare in vita senza pericolo una città come roma gli edifici di massa dell'antichità sorgevano ancora intorno vuoti l'anfiteatro era una rovina molto ben conservata ci si poteva sentire in esso privi di diritti e ripudiati la seconda roma invece la roma di san pietro aveva conservato a sufficienza la sua antica attrazione la chiesa di pietro si riempiva di pellegrini da ogni parte del mondo ma questa seconda roma non era certo atta a fungere da polo di discriminazione nazionale essa si era sempre rivolta indistintamente a tutti gli uomini e la sua organizzazione risaliva un tempo in cui le nazioni nel senso moderno non esistevano ancora quindi cosa crea per canetti un pericolo diciamo così per gli oppressori dell'italia sono e questo pericolo è generato e creato dalla stessa esistenza di una città come roma roma in sé non può essere lasciata in vita perché rappresenta in due strati sia nello strato della sua antichità che ai palazzi vuoti come mi definisce però c'è anche un secondo strato di roma che è lo strato dell'accoglienza universale della chiesa di pietro fra queste due roma il sentimento nazionale l'italia moderna era come paralizzato non c'era scampo poiché c'era roma e i romani erano stati d'italia il fascismo tentò la soluzione apparentemente più facile si gettò nel costume genuino ed antico ma non gli stava affatto a pennello era troppo largo e adesso si agitava dentro con tale vehemenza che lo ruppe tutto i fuori possono essere dissepolti l'uno dopo l'altro non si riempiono di romani il fascio suscita solo l'odio di coloro che sono accarezzati con le varie verche nessuno va orgoglioso di minaccia e di punizione il tentativo di imporre all'italia un falso simbolo di massa nazionale e per fortuna degli italiani non fragato quindi questa parte finale del testo di canetti fa un chiaro riferimento al fascismo ovvero il fascismo che tenta un'unificazione formale della cultura italiana e proprio attraverso la ripresa dei vecchi fasti dell'impero però lo fa in una chiave talmente tanto vehemente talmente tanto forte talmente tanto incisiva esagerata e ampollosa che ne risulta quindi fallimentare cioè crea una unità di fasto nel apparente dietro questi simboli simboli che però ormai non rappresentano più nessuno e qui si ricongiunge con il concetto iniziale che canetti ci fa all'inizio di questo piccolo estratto dove appunto parla della inutilità per gli italiani dei simboli perché l'italia non è più all'interno né dei simboli della storia gloriosa del suo passato ma non è neanche ancora all'interno dei simboli della sua unità del suo presente e quindi è come se vivesse in una sorta di perenne passaggio che non riesce mai a concretizzarsi nella nascita di una simbologia stabile per la cultura della popolazione molto bene questo era un piccolo estratto che volevo leggervi per commentare un po l'opinione l'idea che alcuni intellettuali nel corso dei secoli hanno avuto riguardo all'italia non tanto come cucina di grandi artisti e uomini di cultura di arte e tant'altro quanto come luogo appunto di come laboratorio cucina di evoluzione sociale politica quindi da un punto di vista più nazionale sociologico questo proprio perché spesso l'italia viene considerata da questo punto di vista una nazione immatura e spesso questo è associato anche al fatto che è una nazione tendenzialmente abbastanza giovane quindi la sua unità in realtà è un'unità ancora in fieri in costruzione in divenire tra l'altro tema molto interessante che magari potrei affrontare se vi va lasciatemelo nei commenti scritto proprio legato all'aspetto dell'unità culturale dell'italia è proprio quello di come questa unità culturale italiana sia stata forse troppo prematuramente influenzata dalla società dei consumi che ha investito l'italia nell'immediato dopoguerra e che ha portato poi a un ulteriore indebolimento delle radici storico culturali che potevano accomunare la popolazione dal nord al sud del paese e mi fermo qui era giusto questo video primo tentativo di iniziare una nuova rubrica legata proprio all'aspetto letterario della cultura italiana a 360 gradi quindi anche come in questo caso prendendo come esempio autori esteri che parlano dell'italia o della cultura italiana e spero che questa piccola pillola questa piccola rubrica vi sia piaciuta sicuramente farò altri video dedicati ai libri in particolare anche a letture e possibili diciamo così consigli e recensioni legati a libri principalmente di autori italiani ma anche non solo autori italiani ma magari tradotti bene nelle librerie nelle biblioteche italiane quindi fatemi sapere se avete preferenze scrivetemelo pure nei commenti o via mail io vi ringrazio per aver seguito questo video vi aspetto al prossimo e se non vi siete già iscritti al canale fatelo trovate tutti i riferimenti qui qui ovunque fatelo pure attivate la campanellina noi ci vediamo nella prossima occasione un grande bacio dal boom alla prossima ciao